Buonasera a tutti, questa sera siamo qua a farvi vedere un video sull'infuso di corteccia di salice che noi facciamo soprattutto in questo periodo ai novelli che sono svezzati più o meno ogni 15 giorni visto che lo stiamo preparando per domani, questa sera vi faremo vedere come lo prepariamo ecco questa è la corteccia di salice che è un caro amico che me la spedisce dalla Germania quindi ho diciamo questo amico che mi favorisce spedendomela a un prezzo diciamo accessibile quindi come si prepara? semplicemente abbiamo messo a bollire in un bollitone lo potete fare anche in una pentola due litri di acqua quindi versiamo l'acqua esattamente due litri, vedete che è acqua bollente la versiamo in un recipiente e poi vanno messi ogni litro di acqua 20 grammi di corteccia quindi noi qua abbiamo praticamente 40 grammi quindi di corteccia che versiamo nell'acqua andiamo a fare una giratina con un cucchiaio, un coltello, una colchetta e lasciamo, ecco vedete che l'acqua è già cambiato colore e la lasceremo a questo punto, la copriremo poi con un tappo e la lasceremo in infusione fino a domani mattina, fino a quando è freddo poi domani mattina la filtrerò e le somministreremo poi a tutte le graffie dove ci sono già i canarini novelli che hanno già dai 40 ai 60-70 giorni poi domani mattina in un video vi faccio vedere la somministrazione per chi la volesse avere io ne ho disponibile qualche busca vi arriverà ecco quelle istruzioni che adesso pure vi condivido sotto il video il costo è di 12,50 euro per mezzo chilo sono costi da mezzo chilo più ci sono 6,50 euro di spese di spedizione colgo anche l'occasione per, l'avete già visto in un post per comunicarvi che Dodò è diventato un marchio quindi vedete il marchio appunto sulle confezioni dell'Alusso e ci tengo a specificare io insieme a Stefano che non si tratta del pieno dell'Alusso sia per l'azienda che lo distribuirà abbiamo scelto la Lusso in quanto riteniamo questa azienda molto seria già proiettata verso la distribuzione di prodotti naturali quindi tra l'altro ci lega un'amicizia con Stefano è nata per caso ma ci lega anche una stima profonda quindi iniziamo esordendo appunto con questo marchio avendo avuto l'onore proprio di poterla affrontare su queste confezioni dell'Alusso quindi grazie a tutti continuate a seguirci se volete in questo caso la corteccia potete contattarmi in modo privato così come se volete loro per il pieno invece ripeto e ribadisco non lo distribuiremo più noi ma sarà immesso sul mercato breve dell'Alusso quindi sarà disponibile poi anche sul mercato europeo dove verrà distribuito poi appunto da questa azienda grazie a tutti e buona serata